Mister, una bellissima vittoria, non era facile visto la tattica che ha usato la Paganese, però ci siamo riusciti. Devo dire che intanto sei partito a mille, mi fa piacere, mi piacciono le persone determinate. E poi effettivamente sì, non era affatto facile, sono quelle partite che dici che sono facili dopo, che magari hai ottenuto il bottino pieno. Ma in realtà la Paganese è venuta nel primo tempo ordinata tatticamente, perché il mister Capuano è sicuramente un mister molto preparato nel 3-5-2. Noi abbiamo fatto fatica non tanto a trovare le soluzioni di gioco, quanto proprio nei primi dieci minuti a girare più velocemente la palla. Però l'avevamo preparata così, non volevamo assolutamente poter spallettare davanti e cercare di andare a conquistare le seconde palle, che ci avevano probabilmente fatto consumare prima energie e idee. Il secondo gole è stato molto importante perché ha concesso alla squadra di essere molto più tranquilla nei minuti finali, cosa che magari nelle altre partite non era successo. Sì, anche se oggi siamo secondo me stati più abili a mantenere la linea difensiva alta e più ordinata, soprattutto in fase centrale i centrocampisti hanno fatto un buon lavoro, sia di raccordo che di schermo davanti ai due difensori centrali. Questo ci ha permesso di non abbassare troppo e di mantenere più il possesso del pallone quando ripartivamo. Mister, una sconfitta che brucia perché comunque per i primi 40 minuti si è vista una buona Paganese. Brucia, brucia perché chi vede il risultato 2-0 non lo ritengo veritiero, non lo ritengo veritiero perché abbiamo accorciato bene, eravamo strutturati bene, gli abbiamo lasciato il primo campo a loro nei primi 45 minuti per lasciargli palla in orizzontale, in ampiezza e non in verticale. Abbiamo fatto tutto bene, poi c'è stata questa disattenzione e poi abbiamo complicato da solo, ci siamo complicati da solo. Guardando la classifica, Paganese 10 punti, Fanalino di Coda, la preoccupa questa situazione? Guardi, io ho accettato perché sono l'uomo cosiddetto dei miracoli in queste situazioni, quindi sapevo a cosa andavo incontro, so che è durissima, però ci proviamo. Grazie a tutti.